Ciao, mi chiamo Lorenzo. Sì, quel ragazzo allegro che vedete. Se vi va di ascoltarmi vi racconterà una storia, la mia storia. Non è piena di esplosioni, ricca di vampiri e di tradimenti. Ho semplicemente incontrato una bella ragazza, Emma. Mi è cambiato la vita. E con le orande viola, due giovinciali simpatici, ci sono state complicazioni. Ma niente di che. Ero diventato... l'ombra di me stessa.